Il Volontariato è sempre stato un momento di accoglienza di tutti quelli che si avvicinano al nostro mondo. Questo in particolare perché sono di varie altre nazionalità che magari non conoscono nemmeno le nostre realtà. L'integrazione ad Arezzo passa anche attraverso il Volontariato. Si chiama infatti Integrazione, il progetto di cui la misericordia retina è promotrice e coprotagonista che vede al centro un gruppo di otto richiedenti asilo. Il progetto finanziato dal CESVOT coinvolgerà giovani migranti in attività socioassistenziali, sportive ed infine formative. Noi che cosa facciamo finanziando questo progetto? Cerchiamo di agevolare quella benedetta integrazione di cui tanto si parla ma che poi molto spesso si pratica. E qui viene proposta una forma di integrazione globale perché lavorando questi ragazzi e nella misericordia con tutto quello che nei servizi sociosanitari significa misericordia. Con Camminando Saprecammino che offre loro la possibilità di lavorare negli orti sociali anche accanto a persone svantaggiate, quelli delle cooperative sociali di tipo B che sono i soggetti poi cui si rivolge soprattutto Camminando Saprecammino. E poi c'è la WISP che consente loro anche di fare attività sportiva, ludica che è comunque una forma di integrazione anche quella. Da noi essenzialmente si occupano di persone che hanno bisogno di aiuto perché misericordia è la nostra propensione, l'aiuto al prossimo che ha bisogno. E devo dire che l'esperienza fatta fino ad oggi con questi ragazzi è stata estremamente interessante e molto costruttiva perché rispondono molto bene all'istanza dell'aiuto che gli arriva anche da persone che non conoscono, in un ambito culturale molto diverso da loro ma che comunque poi ne apprezzano l'importanza e quindi un ottimo risultato fino ad oggi. Cosa ne pensi di questo progetto? Ti piace? Sì, mi piace molto. Cosa avete fatto fino ad oggi? Per aiutare gli anziani a portare a casa, a portare gli spandali. Cosa vi dicono questi anziani? Vi ringraziano? Sì, sì, molto. Ci sono gli anziani che mi ringraziano per questo lavoro. Cosa vi ringraziano?